E benvenuti anche per oggi all'informazione regionale di Esperia TV. Subito in apertura la sanità perché ci sono delle novità dalla Commissione Finanze del Senato che ha dato il via libera all'emendamento sul cosiddetto decreto Calabria. Ci sono delle modifiche ma da quel che è dato certo è che il commissariamento della sanità calabrese sarà posticipato al meno fino al 31 dicembre del 2024. Sono state confermate le somme per la realizzazione dei quattro ospedali. Vediamo il nostro servizio. La Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha approvato l'emendamento con cui viene prorogato il decreto Calabria. Il testo è stato leggermente modificato rispetto all'originaria versione e fa parte del cosiddetto decreto proroghe. Resta la proroga di un anno dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024. Una norma destinata ai commissari straordinari di ASP e di aziende ospedaliere che dovranno essere confermati o nominati ex novo entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto. È stata soppressa la disposizione che bloccava i pignoramenti nei confronti degli enti del servizio sanitario regionale. La legge sarebbe giunta a naturale scadenza il 31 dicembre ma è stata anticipata anche in conseguenza di una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea a causa della non conformità della Calabria alla direttiva comunitaria contro i ritardati pagamenti. Per quanto riguarda gli appalti sanitari viene prevista la possibilità di convenzione con azienda zero o con la stazione unica appaltante regionale. Disposta anche la proroga dei contratti di lavoro flessibile a supporto dell'ufficio del commissario della sanità calabrese e lo stanziamento di 58 milioni per l'edilizia sanitaria. I fondi saranno 19,4 milioni di euro per il 2024 e 38,6 milioni di euro per il 2025 e saranno destinati ad esempio al finanziamento delle varianti progettuali relativa ai lavori per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide di Vibo Valencia, di Catanzaro e di Gioia Tauro. Lo ha affermato in una nota il presidente della regione Roberto Occhiuto. Occhiuto ha affermato anche che il sistema sanitario della nostra regione si è risvegliato dal coma e passo dopo passo sta intraprendendo un lungo percorso verso la normalità. Il mio governo regionale sta accompagnando questo processo con attenzione e dedizione, ha continuato Occhiuto. Stiamo vedendo i primi risultati del duro e complesso lavoro iniziato due anni fa, ma la strada da fare è ancora tanta. Ma la sanità non è soltanto norma e programmazione, ci sono i problemi del presente e che sono di fatto conseguenza del passato remoto e recente. In Cittadella una manifestazione per focalizzare l'attenzione sui problemi. Sentiamo quali? È una situazione del tutto, non saprei come definirla. È chiaro che chi gestisce a livello provinciale, ma anche come direttiva regionale, non si è fatto carico, non si fa carico della situazione di questo ospedale, che è un ospedale interno, di zona interna, difficilmente raggiungibile per le strade che ha, soprattutto la zona estrema delle Serre Calabri, che parte da Mongiana, Fabrizia e Nardo di Pace. Sono comuni quasi inaccessibili, anche perché non ci sono strade e l'inverno poi diventa tutto più complicato, con la neve, con le piogge e quindi niente, la situazione dell'ospedale oggi è un ospedale che lo stanno smantellando e stanno portando avanti questa casa di comunità, con anche l'assenso, silenzio dell'amministrazione comunale del sindaco. Noi siamo forse quelli messi peggio, nel senso che come viabilità siamo un paese di montagna, quindi dobbiamo attraversare tutte le montagne per arrivare a Serra San Bruno, già ci vogliono mille peripezie. Immaginarsi per dover arrivare a Vibbo, a Catanzaro, è impensabile che persone anziane o persone malate o chi purtroppo magari avrebbero avuto un incidente, debba fare tutta quella strada per arrivare a un pronto soccorso. In passato è successo, a noi causa molti problemi la neve, quindi il periodo invernale è quasi impossibile muoversi. L'anno scorso a causa di quell'abbondante nevicata per portare due dializzati in ospedale è stata un'odissea, abbiamo dovuto attendere prima l'arrivo delle turbina, per spazzare la neve e poi con mezzi di fortuna adattarci. Quindi capirete che noi siamo qui perché crediamo che debba essere garantito a tutti il diritto alla salute. Poi Nardo De Pace ha anche diritto al ricorso al tar che ha fatto il Comitato San Bruno e noi crediamo che dobbiamo lottare in ogni modo per garantire il servizio alla salute a tutti. Adesso la cronaca, ci spostiamo a Gioiettauro per un sequestro dei finanzieri nei confronti di due imprenditori in odore di mafia. 40 milioni tra case e Roma, denaro e società avrebbero anche frodato il fisco. Vediamo. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria e lo Scico hanno sequestrato beni per 40 milioni a due imprenditori in odore di mafia. È l'epilogo di una indagine patrimoniale coordinata dalla Procura nei confronti di due imprenditori di Gioiettauro che sarebbero collusi con la cosca Piromalli-Molè, con la quale avrebbero instaurato un rapporto ben radicato nel tempo. L'aspetto criminale dei due era emerso nell'ambito dell'operazione Andrea Doria dell'aprile 2021 che aveva portato a 23 arresti e a un sequestro di 620 milioni di euro. Le indagini avrebbero disvelato un sistema di frode fiscale nel settore del commercio petrolifero, triangolazioni societarie finalizzate ad evadere l'IVA e le accise, con false dichiarazioni di intento, uno strumento che consente di acquistare senza versare l'IVA. Il gruppo avrebbe gestito tutta la filiera della distribuzione dei carburanti, dal deposito fiscale fino ai distributori stradali finali, interponendo tra queste due estremità imprese cartiera nel commercio di carburante, depositi commerciali e brokers locali, allo scopo di evadere le imposte. Le società dichiaravano di possedere i requisiti richiesti, così facendo beneficiavano delle agevolazioni previste dalla legge, acquistando il carburante senza l'applicazione dell'IVA. Il carburante passava poi da una società all'altra per essere venduto a prezzi concorrenziali a clienti ben individuati. La ripulitura degli incassi avveniva attraverso le famiglie di indrangheta interessate al settore della distribuzione dei prodotti petroliferi, colletti bianchi attraverso cui le concerterie riuscivano ad operare con profitto, inserendosi in un settore nevralgico altamente remunerativo. Su queste basi è stato disposto il sequestro del patrimonio dei due imprenditori, sei imprese attive, una ditta individuale nel settore agricolo, quote di una società immobiliare, nove fabbricati di cui sette ubicati a Roma, cinque autovetture, quattro orologi di lusso e disponibilità finanziarie. Ci si prepara alle festività natalizie, i comuni italiani pianificano iniziative artistiche e culturali oltre che di spettacolo. Anche Crotone si sta preparando al grande evento del 31 dicembre, ma non ci sarà solo Rai 1, conferenza stampa in comune del sindaco e dei suoi assessori per presentare ai cittadini tutte le iniziative previste. Sentiamo. Musica, teatro, enogastronomia, fumetti e tanto altro. Questo è il cartellone festivo natalizio organizzato dall'amministrazione comunale di Crotone, che culminerà con il concerto di Capodanno della Rai con Amadeus e tantissimi cantanti in piazza Pitagora. Un cartellone presentato nella sala consigliare, presenti il sindaco Vincenzo Voce, il vice sindaco Sandro Cretella e l'assessore alla cultura Maria Bruni. Tante iniziative, tanti spettacoli, cultura, musica, teatro e ce lo meritavamo, guardate, ce lo meritavamo. Abbiamo iniziato l'anno scorso con una stagione diciamo invernale, natalizia, molto bella. Proseguiamo su questa linea e soprattutto l'evento dell'anno a livello nazionale con Amadeus il 31 dicembre. I particolari di 35 giorni intensi che vanno dal 2 dicembre al 6 gennaio li ha spiegati Sandro Cretella. Bisognava costruire qualcosa intorno a questo evento del 31 dicembre. Naturalmente l'amministrazione comunale non è rimasta con le mani in mano. Un mese intenso di attività, di promozioni e di manifestazioni. Sì, che era qualcosa che ormai facciamo ordinariamente. Chiaramente la programmazione quest'anno è fortemente influenzata dall'evento del Capodanno per tutto quello che comporta già a partire dalla prima decada di dicembre. Quindi abbiamo dovuto fare degli aggiustamenti rispetto a quella che poteva essere la programmazione ideale. Ma chiaramente è venuto fuori comunque un cartellone importante che come al solito si compone di eventi organizzati direttamente dal Comune di Crotone, eventi la cui organizzazione viene demandata a soggetti terzi, c'è il patrimonio, il patrocinio gratuito di una serie di eventi e quindi esce fuori un cartellone abbastanza composito che comprende tanti eventi musicali, mercatini di Natale, una rassegna gospel che abbiamo voluto introdurre a partire da quest'anno con tre importanti concerti e una serie di altri eventi di natura enogastronomica. Riproponiamo il Wineland anche quest'anno dal 26 al 28 dicembre, una rassegna teatrale nel periodo che andrà subito dopo il Capodanno fino all'Epifania, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti. Potete promettere che a Crotone a dicembre si dormirà poco? No, no, cerchiamo sempre di contemperare le varie esigenze, quindi chiaramente sempre con spettacoli che anche e soprattutto nel periodo natalizio tendono a finire sempre prima, iniziamo già dal pomeriggio e tendenzialmente l'orario degli eventi si articola dalle sei del pomeriggio fino al massimo alle 10-10 e mezza di sera. E a Crotone nei giorni scorsi si è tenuto anche un focus sulle nuove norme del contratto dei lavori pubblici. Diventa fondamentale rispetto della tempistica anche perché non mancano le risorse a cominciare da quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Servizio. L'obiettivo principale è quello di velocizzare la realizzazione dei lavori pubblici, utilizzare al meglio i fondi, ad esempio, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dare dunque una boccata d'ossigeno alle imprese. Il nuovo codice dei contratti pubblici, alla luce delle recenti normative del settore, argomenti trattati a Crotone in una o due giorni, promossa dal ANS, l'Associazione dei Costruttori Edili. All'iniziativa ha partecipato anche il Vicepresidente Nazionale, Giovan Battista Perciaccante. Ha dato una spinta agli appalti, voglio dire, perché bisogna riconoscere che ha velocizzato, però bisogna tener conto che questo nuovo codice degli appalti ha velocizzato, però le amministrazioni non ne devono fare un uso un po' distorto, voglio dire perché poi i mezzi che vengono dati devono essere saputi mettere a terra. In effetti ha velocizzato perché ha messo le amministrazioni, per importi più piccoli, di velocizzare e appaltare immediatamente, però non se ne deve fare l'uso con trattative che si invitano poche imprese, le stesse imprese, bisogna fare della rotazione, far ruotare le imprese, appaltare i lavori così da poter partecipare più imprese possibili e distribuire sul territorio più imprese possibili. Comunque il contratto, il nuovo codice degli appalti ha velocizzato tante altre cose, ha sburocratizzato, ha reso molto molto veloci le procedure sia per gli affidamenti degli incarichi professionali che per quanto riguarda gli appalti. Sull'aspetto prettamente legislativo è intervenuto l'avvocato Francesco Lilli. La cosa più importante però di questo codice che è da rimarcare è il cambio di passo per quanto riguarda la concezione dell'attività della pubblica amministrazione e il principio del risultato che appare descritto nell'articolo 1 di questo codice. Volendo usare uno slogan, diciamo così, la volontà del legislatore è di mettere da parte la parentesi, la lunga parentesi normativa di Tangentopoli. Momento formativo ma anche occasione per i costruttori di poter stare insieme. Sono importanti queste giornate tra colleghi imprenditori e tecnici anche della pubblica amministrazione per far sì che il nuovo codice dei contratti entra proprio nel vivo della sua attuazione. Quindi abbiamo deciso di organizzare questo convegno in due giornate per confrontarci sul nuovo codice degli appalti e fare un confronto tra il vecchio codice e il nuovo codice per avere una chiara chiave di lettura. E poi c'è l'agricoltura che comunque è il comparto più importante in Calabria. Comincia la nuova programmazione comunitaria e l'assessore regionale Gianluca Gallo pensa al biologico. Sono almeno 9.000 le aziende interessate dai nuovi bandi. Vediamo. La programmazione 2327 comincia a prendere forma. La regione Calabria ha emanato ed è stata tra le prime regioni e i bandi per il settore biologico, anche perché in questo settore la Calabria è il leader nazionale al terzo posto in Europa, dal momento che il 36% di superficie è utilizzata proprio all'agricoltura biologica. 9.000 le aziende che hanno partecipato al bando. Abbiamo avuto anche un incremento dei terreni che sono stati destinati al biologico. Certo sono necessarie importanti risorse. C'è stata polemica in questi giorni perché alcune aziende sono state finanziate, altre aziende sono state ammesse ma non finanziate. Abbiamo incontrato le organizzazioni agricole, professionali e con esse abbiamo definito un percorso che ci porterà ad aumentare il numero dei beneficiari. Il mio obiettivo è quello di pagare tutti i beneficiari con un taglio lineare di pochi centesimi per ogni azienda ma soprattutto assicurando una programmazione quinquennale, cosa che in passato non era avvenuta. Certamente noi sul biologico continuiamo a fare la nostra parte come è sempre stato. Di transizione ecologica si occupa il Partito Democratico Calabrese e la crisi climatica interroga tutti, anche le istituzioni ed è per questo che in conferenza stampa è stato presentato un ordine del giorno che si spera possa essere approvato da tutti i consigli comunali calabresi. Le motivazioni le ha spiegate Francesca Adorato. Oggi come PD Calabria abbiamo voluto fortemente presentare questo ordine del giorno, tra l'altro su input della nostra responsabile nazionale che è Annalisa Corrado, responsabile appunto della transizione ecologica e sostenibilità, proprio per l'importanza che riveste oggi la lotta alla crisi climatica anche e soprattutto alle nostre latitudini, perché la Calabria non è assolutamente esente da quelle che sono le problematiche nazionali ma oserei dire mondiali. Perché dunque questo ordine del giorno? L'ordine del giorno che noi proponiamo a tutti gli amministratori affinché lo approvino all'interno delle assise comunali per far sì che ci sia un impegno maggiore e costante a quella che appunto è la lotta ai cambiamenti climatici. Questi cambiamenti climatici ormai rappresentano un pericolo costante che producono terribili devastazioni con ricadute importanti non soltanto dal punto di vista ambientale ma anche economico per i nostri territori e per le nostre comunità. Quindi bisogna abbandonare le energie tradizionali per mettere in campo anche quelle che sono le azioni che ci vengono suggerite dall'Unione Europea con quello che è il piano del Fit 455 per esempio che ha come obiettivo fondamentale quello del passaggio ad una neutralità climatica. Ma è un'iniziativa importante perché è un ordine del giorno che riconosce l'importanza delle comunità energetiche rinnovabili e si offre agli amministratori della Calabria, della nostra regione, ai comuni affinché l'ordine del giorno possa stimolare non solo un dibattito costruttivo e propositivo dentro i consigli comunali ma impegnare anche le giunte comunali a lavorare affinché si arrivi alle comunità energetiche rinnovabili. Non è solo carico dei comuni, oggi servono i decreti attuativi che il Governo nazionale ancora non ha fatto e siamo davanti a una svolta epocale perché il caro energia è sotto gli occhi di tutti. Le comunità energetiche rinnovabili che ci chiede la comunità europea significherebbe per i cittadini diventare non solo soggetti che possono avere dei risparmi sulla bolletta ma diventare anche produttori. Vuol dire un risparmio enorme però su questo serve informare i cittadini. A noi arrivano tantissime comunicazioni che ci chiedono ma cosa sono le comunità energetiche rinnovabili. È un'occasione straordinaria che abbiamo, che l'Italia ha e sulla quale c'è la possibilità di fare un grande risparmio per i cittadini e soprattutto creare energia pulita, avere davvero, affrontare in maniera seria il tema del cambiamento climatico. Soverato è la città che lo ospita ormai da decenni. Il procuratore di La Mezza Eterne, Salvatore Curcio si sposta ogni giorno dalla perna dello Ionio alla piana Lametina, ma Soverato conosce tutti e uno di loro in tutti i sensi, anche perché adesso è diventato cittadino onorario. Salvatore Curcio, procuratore della Repubblica di La Mezza Eterne, è adesso cittadino onorario di Soverato. Alla cerimonia presieduta dal sindaco Daniele Vacca, hanno partecipato il sottosegretario di Stato al Ministero degli Interni Vandaferro, il vicario del prefetto di Catanzaro, il questore del capoluogo di Regione Paolo Sirna, il comandante della Regione Calabinieri Calabria, Francesco Salsano, ufficiali della Guardia di Finanza e rappresentanze della Capitaneria di Porto di Soverato e della Polizia Locale. È una gratificazione che io mi sento di condividere con l'intera comunità di Soverato. Come tutti sapete, io sono nato anagraficamente a Catanzaro, ma di fatto sono nato e cresciuto a Soverato, quindi di questo posto, di questa città conosco ogni via e ogni pietra e ovviamente la mente è affollata da tanti ricordi. Mi sovviene un vecchio adagio africano, cioè che per educare un bambino ci vuole un intero villaggio e che dobbiamo dedicare molta attenzione e molta cura alla formazione e all'educazione dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, perché soltanto attraverso una vera e propria rivoluzione culturale potremmo fare quel salto di qualità in avanti che ci consentirebbe di lasciarsi alle spalle problematiche oramai vetuste e risalenti nel tempo, prima tra tutti appunto la fenomenologia mafiosa. Questa rafforza di più il merito del procuratore Curcio per la lotta alla criminalità, lunghi anni ha trascorso nella magistratura, lunghi anni di sacrificio proprio per combattere la criminalità organizzata che in molte comunità ha soppresso diverse comunità. Di quella magistratura di cui c'è sempre maggiore necessità, sobria, ma soprattutto di una magistratura che applica una giustizia giusta. Per me è un privilegio oggi essere tra la gente insieme al procuratore Curcio con quella volontà che non deve dare mai lo scontro tra magistratura e politica, ma la possibilità anche di guardare ad una riforma che sia una riforma che possa mettere in campo quello che dicevo prima, una giustizia giusta. Apriamo una finestra sul calcio con il Crotone che saluta la Coppa Italia eliminato dal Catania ai calci di rigore al termine di una partita piacevolissima terminata 3-3 nei tempi regolamentari. Dal dischetto fatale gli errori di Bruzzaniti, Giron e Perticcione. La corsa del Crotone in Coppa Italia si ferma dagli 11 metri. A Catania, dopo una scoppiettante e godibile partita terminata 3-3 nei tempi regolamentari, il passaggio del turno si è deciso ai rigori con la formazione etnea allenata da Lucarelli che sbaglia meno dei crotonesi e quindi affronterà nel prossimo turno il Pescara. Ampi ha confermato turnover da parte dei due allenatori, ma con un Crotone che ha sempre recitato il ruolo di preda. E Tribuzzi, già a segno in campionato proprio qui a Catania, ad aprire le danze trasformando in gol un cross di Bruzzaniti grazie ad un preciso piatto destro. Il pareggio dei padroni di casa nella ripresa d'opera di De Luca, sangue crotonese, nelle vene per via dei genitori, con un preciso colpo di testa. Passano pochi secondi e il crotone scappa di nuovo con Tuminello che sempre di testa beffa la difesa siciliana. Tanti ex nelle file del Catania, da Di Carmine, a Mazzotta, da Curata, a Zanellato, per finire a Chirico e Dubichkas e proprio il Lituano, con un trascorso nella primavera dei Pitagorici, a griffare il secondo pareggio. Ma il crotone prova la terza fuga e lo fa con Bruzzaniti che sfrutta una dormita di Mazzotta e fulmina Rivieri con un forte diagonale. Nel finale Dursi commette un'ingenuità su Mazzotta nel cuore dell'area di rigore, che causerà un penalti che Samuel Di Carmine trasforma con freddezza. Nei tempi supplementari succede poco, ma dal dischetto il Catania segna tre gole e ne sbaglia uno. Il crotone ne fallisce tre, con Bruzzaniti girono e l'ultimo fatale è quello di Patriccione. Come Baggio ausa 94. È il momento del meteo. Ben trovati da Nico Schiodetto. Previsione per la giornata di venerdì a livello europeo, numerose perturbazioni che ancora interesseranno l'Europa centro-occidentale. Neve oltralpe a quote basse, quote elevate invece sulle Alpi settentrionali italiane. Però insomma, poi piano piano nel weekend giungerà l'aria fredda da nord Europa, nuovamente verso il Mediterraneo. Andiamo a vedere la mappa della nuvolosità, copertura nuvolosa compatta al nord e difatti la prossima immagine ci mostra le precipitazioni attese in pianura padana sotto forma di pioggia. Neve sulle Alpi inizialmente oltre i 1800 metri di quota, calo poi serale per l'arrivo di aria fredda a nord Europa. Mentre possiamo notare con la successiva grafica come al centro-sud ci sarà il sole. Una bella giornata, ampia apertura del cielo. Tra l'altro le temperature al sud oltre i 20 gradi per venti tesi di libeccio con mari mossi o agitati. Dettagli maggiori e approfondimenti sull'app di Trebi Meteo. E con il meteo è tutto, grazie per essere rimasti con noi e buon proseguimento. Come sempre, poco a noi di Esperia TV, arrivederci.